Cesara Buonamici si trova in difficoltà nel confronto con Beatrice. La memoria del pubblico non dimentica. Nonostante Anita Olivieri abbia lanciato una serie di accuse contro Beatrice Luzzi per mesi, Cesara Buonamici non sembrava turbata dalle brutte parole rivolte all'attrice. Tuttavia, ieri sera, quando Luzzi ha definito Olivieri una ragazza crudele, senza cuore e poco generosa, ciò è stato sufficiente a mettere a disagio i commentatori. Devo dire qualcosa. Mi sento davvero male stasera. Le lacrime di Anita e di Perla mi hanno colpito profondamente. Sento che Anita è stata trattata ingiustamente, e questo è davvero sbagliato. È stata maltrattata da Beatrice. So che Beatrice è una donna molto intelligente, ma in questo punto avanzato della competizione, quando è già finalista, dovrebbe adottare un approccio più compassionevole. Non c'è bisogno di definire una giovane ragazza, che potrebbe essere tua figlia, così negativamente, dicendo che è cattiva, crudele, senza cuore e non generosa. Beatrice, perdonami, ma non riesco a capirti. Perché sei così arrabbiata con Anita? Anita, a causa della sua giovane età e della sua mancanza di esperienza, ha meno risorse di te? Tuttavia, Beatrice ha sottolineato l'incoerenza e la memoria selettiva di Cesara Buonamici. Non voglio elencare tutte le cose che mi ha detto, perché il pubblico le conosce già molto bene. Forse te le sei dimenticate. Se non le hai dimenticate, allora dovresti capire che ciò che ho detto è giustificato. Il pubblico sa che per mesi mi ha accusato di tante cose. Ha iniziato denigrando i miei figli, dicendo che ero cattiva e manipolativa. È importante che io possa rispondere. Parli di età, di madre e figlia. Mi hai attaccata proprio come madre. Se sono più grande e non posso rispondere, allora è meglio che non mi metta qui. Non sono mai stata aggressiva nei confronti di Anita e, se lo fossi stata, sarebbe stata esattamente il contrario. Prompt per Cesara Buonamici, diversi attacchi diretti da Anita contro Beatrice. Questa donna è davvero crudele. Bere il crisantemo invece del vino? Non puoi farlo. Non puoi farlo. Prendi un drink e vedi come va? Ma hai degli amici? Qualcuno con cui puoi condividere un bicchiere di vino senza finire innamorata? Hai amici? Non ho mai incontrato nessuno come lei, mai nella mia vita, e spero di non incontrarne mai più. Immagina di avere una madre così. Fuggiresti? Stupida. È pazza. Hai imparato a non attaccarsi agli uomini? Ti consiglierei uno psicologo, ne hai bisogno. Vai da uno psichiatra e forse ti sentirai meglio. Dopo sei mesi, vedere ancora Cesara difendere Anita o chiunque altro pur di attaccare Bea è evidente che Cesara soffre molto per Beatrice, forse troppo. Sei il peggiore tra gli opinionisti. Malvagia, perfida, viscida. Senza scrupoli. Passerebbe sul cadavere della madre. Saltella da un letto all'altro. Beve meno, così non cadi. Immagina di avere una madre così. Non le importa nulla dei figli. Cesara, quando queste cose venivano dette a Bea, perché non ti sentivi mai? Detviare ancora le leggenei. È una 복ato lunga. Engina di colega.